Sono dentro Non scherzi You are dead Lancelot unit Che cazzo è ? Qui's Knights Le ha fatto 26.000 E... Si è vesa tutte in fascia Tutti i modelli ti beccano con uno o si si sta ? Uoooooooh Ho fatto delle scimmie Ho fatto delle cazzo di scimmie porche Ma cosa significa ? Come una scimmia Ma cosa significa quella cazzo ? Ma cos'è? Come una scimmia Tanta punta lì così Uh, ready? Aim Fire Surprise, motherfucker Sì 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 Grazie a tutti.